Stavano? No, stavano. Mi spieghi tutto? No? Ho capito, io non ci posso andare un po' qui, non parlo. Non parlo. Abbiamo chiamato la tempesta e la tempesta è arrivata. Metallo. No, 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 no. E' da ottobre che non la smette e ora noi ci siamo rotti il cazzo. Un se ne pone proprio più si o merda sto tempo del cazzo. Si, ma ritraendo anche del testino di cazzo. Turbo. La viaccia è piena di merda. La viaccia è piena di merda. È piena di merda. Il comune non fa una sega. Da acquistare. È vera, eh? Ma va. Mandano le bollette e noi non le paghiamo, sai? Fu così che si trovò il fisco a casa dopo che giorni. è piena di merda. Mentre pioviva. Ecco, io stavo per la casa di Gialla Alta. Bellina. La casa di Gialla Monerichino stava aperta. Dove stavo prima? Che posto di merda. Che posto di merda. I tombini sono pieni di merda e noi altri non si sa come fare. Ma solo lascialo sentire. Lo fa coprire la posta. Ciao. Le mie vecchie scuole elementari. Perchè la gente deve ascoltare più Domine? Vero? In questo mondo ci sono troppi truzzi di merda. Concordo. Devono morire tutti. E questa è in mezzo alla via. Grande così. Ci spiega una sega. Poi c'è della gente fantastica tipo questa. Sì, ho capito. Però la freccia è buona norma. Siccome la gente compra le patenti sulle uscite di Topolino. Vai Casse! Il collo! Non la fa morire! Non la fa morire! Non la fa morire! Ba ba bam ba bam! Ba ba bam ba bam! Vai Casse ora! No, Casse ora ci spianta nella colpa. Lo sai dove si spunta qui però? Si spunta accanto casa di tuo padre amore. Ma dove è pieno il fiume? Cazzo! Sono con la fissa lunga. Qua siamo nella zona balneare di San Pietro a Vito. Esatto! Chiamasi acqua calda. Sono a fermare. No! No!